o vediamo un po e la nostra partita già siete 4.3 ti dico ti dico e by messaggi ma alla fine arriva nel messaggio oh la leonardo e hello kenneth hello hi to everyone hello also for me hi hola alza un po' sta voce signori signore signori signore signori signore oh michele michele devi scaricare disc jam amiche troppo bello troppo bello ciao buffo uge 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 oh my god che tale stais? come va a tutti? ugei Quanto conosco male? Noi sono troppo male, ho passato tutto il dia un po' con un virus natale che è frio. Dzeko, ma davvero? Oggi proprio l'ho pensato perché ho visto il suo profilo e detto ma Dzeko è veramente lui? Esiste o ce l'abbiamo solo immaginato? Ce lo siamo. Ce lo siamo solo immaginati. Come stai? Hi Jay. Hi, hi. Bene, andato abbastanza... What team you pick on Splatfest? Ehm... Jay... I prefer... Ehm... I don't know... No, non lo so, non so che scegliere. He hasn't decided yet on what to choose, really. Nooo, I don't have changed my weapon. Minchia è un botto di scuola. Ma la stai costruendo tu, Dzeko? Io credo anche un uovo. 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 Eccolo anche un uovo. Uovo per la vita. Tum, 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 tum. Così a caso. Come dire... Passa per caso. Red Game Rose. Io non so che sia. Oh, oh, oh. You poop. Wow. Marvy U, perfetto. Salute a me. Salute a me. Hello, Robin. Salute a me. Foxy. Foxy, salute a me. Hola, Foxy. How are you, hermanito? Hermanito! Ello. Vengano... Thena la schade. A me. Fox però tu non mi saluta Samy non lo so Gecko sono cambiate tante cose Gecko adesso ci sono Igo di serie almeno qualcuno oh Foxy saluta me Foxy Foxy saluta me perché solo ves mis directos io veo si io quando tu haces il directo io voy claro che si tu vienes sempre mi directo io quando posso sempre sempre e invito a venire che non ti creas si Leonardo oh no no stavo mirando e beh ma marvi you claro si si haremos después de unas partidas en amiquebola seguro si si abbiamo discord puoi lo troppo nella descrizione del video Ma magari Yaya è Red Rose o come si chiama, no? Ah, magari, non lo so Ok, è un pre-ox, no? Claro, Foxy, quando fai il prossimo directo tu vente por qui e mi dici, Doc, sto in directo e io compartire con gli amici qui non ti preoccupi Yaya è io, Cool Angel Ah, tu è Cool Angel Victorine Non mi ricordo Non ti relato a questo nome ti ricordo come una persona di Cool Angel Ah, Cool Angel, ok, ok, ok Ti ho messo un permesso Dici che le mettiamo i permessi Come? Il mettiamo i permessi Yeah, we'll put... We'll activate the permissions So that you can see the content of the server Hola a todos Victorine Buu, 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 buu Buu, 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 buu Come? Come? Uh, guys Estamos tranquilos I have to recommend you one game Uh, it's called, uh, uh, Disc Jam Yeah, Disc Jam, it's a really cool game Yeah I like the game so much, this game, yeah Eh, the first one The first one The first one The first one And the first one And the first one No, I forgot to change the alarm Oh yeah No No I don't know Yes, I love it So Ah, the new web Did you try the new web Yeah, yes, yeah It's like a more traditional classical style type Yeah The one that hits skin is a shoe? I haven't seen the weapon yet, you know Ah, no, yeah, I have seen it in fact Ah, too too slow, too slow Too too slow Oh no, Sia, Amigo, sinceramente No tengo Tanto tiempo Algo misdireto When? Saco Tiempo Sì, 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 sì Tranquilo, Foxy Te repito A mi me me da gracia mirarte Cioè, me gusta Sì Perché es comico Iii Vale Tenere la cara corretta Then Dices la cara corretta Certo Ti l'han dicho alguna vez eso? Tenere la cara corretta che tu puoi mirarlo e non ti dà gara di irte e lo puoi fare, credo, cosa Ai, Clau Buonanit, Buonas Noches Come stai? Sì, sì, Joshua I hate this gun I don't know why I have that weapon Infatti, he said in spanish Oh, man, I forgot to change the weapon just when he started the match No I don't know, I don't know I don't know Andrea, Andrea, a Quenta, perdona con l'altro, no? Perdona, a Quenta, perdona, a Andre Sì, ciao a tutti, hola, hola Perdonai, sì, no, no Se lo salutiamo se si tan personalmente No, no, io non l'ho visto perché se no sì, claro che Claro che saluto personalmente Oh Come stai? Eh? Tizana, tizana Hombre, Sergio Bueno, bueno, come stai? Bueno Un poco pa' chuchillas pero bueno, bien Uh, I have a phantom now I'm waiting you, phantom No, mira, abbiamo perdito Oh Chachi Fanculo Change the weapon Change the weapon Dio fa Il tipo di su Instagram Così No, cosa sto scrivendo? Così tipo su Instagram Fa Fanlom Di Doc La Sniper E lo lo diglio Prima ho messo il hashtag Doc è classico Il classicodoc.com Dzeko Minchia che bello Vedere Dzeko un'altra volta Sì, veramente Minchia Dzeko Ma sai, oggi no Che ho fatto lo scroll Per la lista Ho detto Mi sono proprio fermata da Dzeko Ho detto Ma Dzeko Clau, chicos Che sei s'vosotros? Claro 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 che lo vorrei What is your worst weapon? Dile che non sono bravo a giocare Perciò non ho un'arma preferita Your worst Tuo peggio Oh, bueno Dile che non sono bravo a giocare Perciò tutte sono He's saying He's not He's not really Well at playing So He doesn't have A favorite Or a worse weapon Pepepepepepepepepepepepepepe Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepeuklane Vente sergio Vente sergio Sargent FX nobody let me join you have to try harder Tom Tom cala Marco cala entra dicendo in mayúsqueda oh mio dio da quanto tempo la stessa reazione è comunque poeta ciao si Foxy lo fondamentale è fare rire la persona è vero dico che se viene a farlo e sicuro te lo prometto che cada vez che tu puoi un video io te lo miro come lo che facendo quando un altro amico facendo un video io lo miro sempre 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 con due mobili lo miro normalmente perché tengo il mio ma se il movimento è jazz quindi quindi il dog oh il 13 il 13 Eh, e vabbiamo a essere uno squid party intendito come, non come squid party, ma come party entrano sotto, se no, squid intendito come calamaro. Secondo te chi è nato prima, l'uovo o l'aggallino? Calamaco, l'uovo ha dato origine alla gallina, ragion per cui, per ovvio motivo, dopo un'evoluzione è nato l'uovo della gallina, però dopo diverse evoluzioni ho diversi, aspetta, ho diverse, che cazzo ne so io Calamaco, qualcosa sarà successo a quell'uovo e sarà uscita quella gallina Amadori. Eh, Calamaco, puoi cancellare il codice di questa persona che ha messo il codice, porfa. O, Jeff, fallo tu. Sì, no, tu, no. Tu puoi aggiungermi. Eh, il mio codice era nella descrizione, quindi puoi aggiungermi senza problemi. Ma qui, per favore, non c'è il codice. Sì. Per il codice, usiamo il Discord prima che le persone restano qui con noi, sì. Esattamente. Normalmente. Abbiamo un servizio di Discord. No, Calamaco, la gallina è un'evoluzione di un vecchio dinosauro, hai capito? È qualcosa che si è dovuto evolvere e perci è diventato più piccolo. La gallina è un emu più piccolo. Eh, 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 la gallina com'è nata? La gallina è nata da una cosa che prima non era, cioè da un uovo che prima non era una gallina. Si potrebbe dire per evoluzione, per mutazione, per malformazione, qualsiasi cosa evoluzionistica. No, Vittorin, Vittorin, decalo, Caleb, pobresito, che è... Che è... Che è il... Il tambien, il nuovo aula, però... Lezioni di filosofia da doc alla seconda. Oh, lezioni di cucina. Cioè abbiamo un tiramisù nel bowletto, stavo dicendo, nel... come si chiama? Nel... nel frigo. Ok, 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 ho messo... ho messo Tim Galina solo perché è dalla parte di Alga, ok? Io infatti ci ho pensato anche di magari scegliere su quel fattore. Sì, 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 sì. Ok, tutti qui, 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 qui... Come stai, Vittorin? Come stai, Vittorin? Come stai, Vittorin? Come stai? Mi vuoi vedere come stai, il servizio è compacto. Code 3, 7, 3, 4. Hi, John White. 3, 7, 3, 4. Molto bene, ragazzi. Unirli quando potate. Unirli quando potate. Partiii! Doc, pareti un caneco saltando con la brocha. Lo adicanti. Ehm... Guarda, guarda. Ehm... Guarda. Guarda, guarda. Guarda due orecchie realizzate. Guarda. Guarda, direi, il gamer. No stiamo in privata ancora, sì, stiamo in privata, 3434 è il codice, non ti l'ha inventato, non stiamo in privata, perché io stavo dicendo che non stiamo in privata, ma se ti dice che stiamo in privata e io vengo senza parlare, non pido in privata, ancora non ho capito come funziona, sì, sì, no, però sì è che non stiamo, tranqui, stiamo ancora jugando così. Marco, 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 oggi è il giorno di salutarci effettivamente, sì, oggi è la máxima espressione della persona, si esprime gridando il nome, Gesana, 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 canta Sergio mentre tanto, claro. Gesana, 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 più dolce della marijuana, Gesana, 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 Gesana. Dove a te piacciono i giochi di Kirby? Mira, guarda, i giochi di Kirby mi piacerebbero a 60 frame e non a 30 frame stile mongoloide bambino che deve giocare a Kirby a 30 frame. Già a 60 frame sarebbe più divertente, sai. Marco ti dico, io ho giocato con la DS e per colpa di Kirby e della mia stupidezza un po' in quel momento ho rotto proprio il controller perché mi metteva nervoso, schiacciava e boh, alla fine. Sì, Sergio, faccio l'ultima, dai. Sergio, avrei l'ultima perché ho Cool Angel. Un calamaco. Un calamaco. Trova la parola più divertente. Quanto è puccioso. Io a Calamaro vorrei, cioè io a Calamaro, no, questo ragazzo, vorrei veramente abbracciarlo forte, 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 minchia, e fargli, scoppiare la testa tanto l'abbracciare forte. Kirby puccioso, minchia. È calamarino, calamachino, come è puccioso, secondo te? Come deve essere calamaco? Il calamaco io non è immagino bello. Non me lo posso immaginare. Piccolino, bello, con i baffi già a 11 anni, i baffi, i mustacchioni, quelli grossi, e la pancia, magro con la pancia. È l'unico magro con la pancia che conosce in tutta la mia vita. Muori, 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 muori. Magro con la pancia. Calamaco chi è? Ehi, ma io non lo ho dicendo. Non lo ho dicendo. Io sto ragazzo, veramente... Chi è Serena, non c'era? Non c'era. Chi è? Serena, non c'era. Che chi è? Dite, vinci per noi fra. Vai, non c'era. Ma non c'era inferiore, non c'era superiore. No c'era. Dice, ti voglio bene, salutami. Ciao, ti saluto, ti voglio bene anch'io. Questo qua è... ma chi è, scusa? Non lo so. Serena, no c'era. No c'era. No c'era, no no c'era. No c'era è una città. Hai capito, è una città che è in Campania, per intenderci, a Salerno, dove abita la nonna. Magari la conosci. Non lo so. Senza persona. Ti voglio troppo, bene veramente, meno male che sei venuta. Serena. Adesso ti cantiamo una canzone, dai. Sergi? Canta lei, per favore, tisana, tisana, tisana. No, Sergio, solo nosotros potremmos llamar a Calamarco, Calamardo. Que scuro, un insulto. Calamardo, hombre. Yeah, Joshua, you have to be really quickly. Try to be as quickly as when you're playing inside of the game. You have to think you are Obelix and I'm Asterix. En breve, Vittorina, en breve. Gesana, gesana, gesana. Ma quindi la nostra amica Serena, Serena, ci sei ancora? Aggiungi Serena e segui il canale di Serena, perché veramente... Continua un secondo che io devo aggiungere Serena, perché... Cazzo, le cose serene vengono una volta solo al giorno. Quindi, allora, fammi vedere che abbiamo Serena Nucela. e la seguiamo, perché lei è una ragazza attiva. Ha visto solo un video quattro anni fa. Quindi potrebbe essere una probabile... Scammer, spammer, lalmer. Allora, Sergio, Jaime, bufu. Jaime, eras un bufu. Non ti dico nada más. Después Vittorina, John Wise. John Wise... Lo seguiamo subito. Non mi sono dimenticata di salutare. Adesso lo saluto. Allora, John Wise. Non mi sono parlare, mi sono dimenticata. Vittorina, non mi sono dimenticata, non mi sono dimenticata, non mi sono dimenticata. quanto va a essere privata. Ah, vale. Eri molto observatore. Vale, vale. No, no, ora mi accorderai di andare attrasse, tranquiloso. No, Diego, io non faccio la cacca. Io non faccio la cacca. Io faccio il Pink's Life. Come si chiamano quelle cose che gioca con bambini? E io cagò a Nintendo Switch. Io cago con Sol. Solo in quattro die. Al Cino. Solo in quattro die. E ti tira la mierda anche mentre stai mirando la pellicula. Rossa. Pellicula. Pelliculon. Il pelliculon ti caga una pellicula di mierda. È sicuro? Vamonos. Cicos, mi ciste sono da italiano, quindi vale un pochino. Come una pellicula da uncino. Igual. Vale questo? Poveria se non sta buono. Infatti, non si sa bene. Nadie sa bello che penso io di una pellicula da uncino. No, io credo che questo potrebbe essere il mas' buono. Io credo che potrebbe essere la rozza cosinata dall'olcino, potrebbe essere il mas' buono che tu... Io stavo in costruzione a cosinare la rozza perché sono io. Sei chiara a morire, eh, Giacomo? I discorsi quelli belli. Victor Peto. Quali discorsi quelli belli? Quelli belli, quelli che si attaccano ai capelli. Facciamo i discorsi belli? Quali sono i discorsi belli? Quelli che ti si attaccano ai capelli. Eh? Che si attaccano? Attaccano. Che si inganciano allo pelo. A dove? Ostra. Cool Angel. You have a good cool. No? You have a good cool. Cool. Coolong. Hi. Hi. Hi, Japanese. We always love Japanese friend. Quizás, did you have the second star Japanese friend? You have to take the second star? Es el, la de la estrella. Perché una cuenta, non te cuenta, lo que cuenta. Oh, 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 oh. Dos, dos. Pepitillos. Le due pepite. Pepitillos. Pepitillos. Oh. We do. La sala sta llena. Eh, tranquilo, tranquilo. Ah, che si chejan mucho. Hacete una privata en breve. En breve, en breve. Doc, qu'è o che è buffo? Eh, mira. Buffo è un modo di dire. Eh, come dicir? Eh, eh. Eh, tu puoi dire, oh, calamaco o buffo. Entiende? Oh, caleb o buffo. Sono due terminologi per definire. Oh, calamaco o caleb, normalmente. Buffo è in frienze. Non c'è la canzone? Eh, we are calamaco buque friend. no? Famosa. Mi cqa, Johanna, Johanna, ahora entra. Eh... Háblame. 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 Escríbeme, porque hablar hasta el 26 de junio no tengo los cascos. if. Eh, no? Yo tengo... fino al 26 di junio ho dovuto scrivere. Certo. Necessitiamo di un intérprete. Perché fa questo? Loca. Non si deve gastare 100 euro per casco. Compra uno di 5 euro. 5 euro! Casco! 5 euro! Veni, veni, veni! Casco! 5 euro! È molto lungo, fino a Julio. Si, Andri, Andri. A 18 euro la sua. Ora, 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 ora. Tranquillo, tranquillo. Adesso vuol dire... 5 euro! Casco! 5 euro! Adesso italiano! E stanotte faremo il mercato in casa. Faremo come il mercato. Victorine! Che grande! Por favor! Por favor! Grazie! Il codice era... O la reazione di Victorine... Zero! 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 Nine! Zero! 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 5 euro Calamaca Calamaca Hola, hablame por chat Mira mis video Que mando saludos Mira Tenemos que mirar il video Que mando saludos Joana Hola Joana Ah vale Joana, Joana, Joana Tus videos Hemos visto uno Pero lo hemos tenido que quitar Joana Había demasiado ruido De fondo Porque era por la mañana Creo, por la noche, no sé Pero no era el momento mejor para escuchar Ruidos así, sabes, muy fuertes No satisfecho No satisfecho Vientastic is here Claam, vale Estás muy informada Es un neologismo Entiendes? Es un término nuevo No Not really No 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 dice Gego? A banane sorrata. A banane. Come si dice napoletano? Dill era napoletano? A banane. A banane. I sorrata. I sorrata. I sorrata. Non so, questo ha sembrato napoletano, della donna tedesca proprio. Mi era mancato Gego con le sue frasi tattiche. Yes, yes, yes Marco, yes, yes pres B pres C, Marco pres D. Come on, come on. La buletana. No, la buletana. Simbutain. Ojalà. No, io no. Ojalà in spagnolo vuol dire Gego significa tipo spero di sì, no? Per dire spero di sì. O spero che lo possa sapere però. Nadie. Che è? Che abbiamo detto? Gego è napoletano? No. No. Donde è Gego? Gego. Della Giecoslovacchia. È bellissimo il nome Gego. Mi immagino un Gego. Si chiama così? Gego,vocato, Giorgio e requirements. Gego. Gero. Per direzione. E le dice Agungest hoti. Chimai Ioana. Che mona. No, poveri, pobresita. Igodi, come si chiama? Igodi. Ioana. No. Allora, se infundi Joypad. Cosa cazzo state scrivendo? Allora, ti ho visto nei suoi video. Ti ho visto anch'io. Ottimi video. Sei proprio un bravo attore. Allora, quel giorno a Napoli pioveva. Era 17.34. Mi saluti? Ascolta, salutami tu stavolta. No, no, salutami tu. Cazzo vuoi? Ho capito. Ho mai bussato in casa tua? Mica, tua madre ha aperto la porta e le ha detto adesso mi saluti. Senza dire niente. No. Prima mi saluti tu. Mi dici come ti chiami. Quanti anni hai. Da dove vieni. E soprattutto perché vuoi essere salutato. Perché a me hanno detto non salutare gli sconosciuti. Quindi? Qualcosa da abiettare? Sto a me arrabbiando. Ciao, testa di cazzo. Come stai? Eh? Grosso scroto infiammato. Ma c'è? Eh? Che oggi siamo zero family friendly. Grosso figlio di troia. Ma? Eh? Ma da un lato all'altro. No, no. Voglio sapere che cazzo vuole adesso sto coglioncello. che non ero in Italia. Se non gli faceva scoppiare i denti. Eh? Che sei un buffone italiano. Sei uno dei tanti. Dimmi, dimmi. Parliamone. Parliamone. Ti offro una vacanza, eh? Se vuoi. Madonna, ma quando vuoi? Boom. Questo lo lascio. Così almeno c'è qualcosa da offendere. No, calamaco? Questo grosso scroto infiammato è venuto a cacarmi il cazzo nella mia proprietà. Hai capito? Io non sto facendo niente di male. No, no, no. Succhiami il cazzo, Alice. Succhiami i coglioni, veramente. Mettiti sotto le palle e succhiamene adesso. Fanculo. Educazione prima di tutto. Stronzo. Se vieni qui e non fai l'educato, becchi in merda. Ok? È vero. Lo sai tu e adesso lo sanno tutti gli altri anche. Chi non lo sapeva fino adesso? Oggi la zona friendly è finita. Proprio è finita. Succhia. Ice. Succhia. Zona friendly. Venivi ieri, veniva accettato bene. Oggi sei un coglione, come a mezzo a tanti. In realtà sei affortunato, credo. Sì, sì. Non è che è bloccato, guarda. Lo tengo lì. Giusto per avere un po' di... Di hater attivi, cazzo. Li voglio. Poverini. Dai, dai, calmati. No, no. Ti salto, ti salto. Ti voglio bene, Ice. Sei veramente un amico. Stavo scherzando. Sono il tuo follower da quando... Non avevo ancora i peli sulle palle. Anzi, guarda, sicuramente. Dai, ragazzi, schiacciate. Vitto. Angel, please. Can you push the... Posate le armi! No, oggi sono merda, Lancia. Te lo giuro. Chi viene per cagare il cazzo da oggi in poi è così, raga. Posate le armi. Premete. Ah. Sì, sembrano tutorial, ragazzi. A volte con... Aspettando la gente, lo so. 13 iscritti. Ehi, doc. Te gusta Yoshi o Kirby? Mira, Gustavo, io ti dico. Por cierto, prefiero un pochino mas Yoshi. Vale. Uno lo veo mas como complemento e l'altro lo veo mas como personaje. Io ti dico che mi gustaría avere un Kirby un pochino mas adulto. Oh, Ais, ciao, bello, come stai? Tutto bene? Benvenuto nel nostro canale. Ciao. Sei il benvenuto. Così sì. Ah, però ciao è anche addio. Ciao, sì, può essere anche addio. Però ci ha salutato finalmente e io mi comporo da persona civile. Johanna, non ti sentas mal. Johanna, ti chiedo. Che no. Anch'io mi sono iscritto al tuo. Così ti seguo. Vedo che non fai cazzate in giro perché... Oh, Johanna, scrivetelo a Jo... Eh, sono uscito. Dove sei andato? No, non mi piace anche i pennelli, Johanna. I pennelli sono meglio che i pennelli. Joshua, nel prossimo game ho provato di usare un pennellino. Sì, lo consiglio. No, Dzeko. Dzeko, non andare! Oddio, sento il volume altissimo. Non mi ha detto... Eh, scusa. Tirami su, tirami su. Oh, cool. Tirami su, tirami su. No, aspetta, aspetta che tirami su. Lo sento per non stare nell'altro diretto. Fox, tranquillo. Non ti ha sperdito nada di speciale. Tutto come sempre. Quindi, tutto come sempre. Ha seguito in una maniera muy... Chi è? Ha seguito in una maniera muy tranquilla. Nada di che... Uh, uh, aiuto, aiuto, cool angel. No, scusa. E allora userò il fottuto wifi dei vicini. Eh, Ais, se giochi a Splatoon, aggiungemi pure. Nella descrizione trovi il mio codice amico. Mi farebbe piacere anche per gli amici italiani trovare altri italiani che giochino. Fox, prima ha nascito Seguro Calamaco. Prima ha nascito Calamaco, después ha nascito el huevo e después ha nascito la gallina e el perro. Che dice? Giacomo, io invece sto usando il wifi del locale a fianco a casa mia un altro. Che tal? Io, no, di te. Gustavo, spero che... Lo hai a dicio, Alessandro, che sennò... T'è... T'è matto. Sono fieno di te. Sono fieno di te, devi dire. Qua abbiamo preso cazzo, eh. Boom! Hai visto? Lo sapevo io. Ciao, Gabriele. Gabriele? Non c'è già qua? No. Cool Angel? I really hate you. Japan Friend. Chico's, Japan Friend. Hello, Japan Friend. Hello, Esghera. Esghera. Riso Cantonese. Ancora in piedi. Fanculo, mafia, pasta, mandolino. Tetta grossa, culo. Ah? Italiano, bastardo. Dai. Allora, adesso facciamo entrare Phantom. Este, e lasciamo fuori. Leo. Oh, la reaction di Leo. Dopo. Dopo, in una, in una. In una, Victor. E Gus. Gabriele? La mia squadra non mi fa giocare. E, Ettore. Ciao, famiglia. Chiaro che mi ricordo di te. Ci siamo conosciuti al Natale. O al Natale o era Capodanno. Chi è? Ettore, famiglia Pavisani. Ah, sì. Ti ricordi? Sì, 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 sì. Tempo fa. Chiaro? Perciò, sì, 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 sì. Come stai, famiglia? Tutto bene? Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Come? Come parlo? Handicap match! Oh, no, lo sento. Solo viene. Vieni a salutare. Oh, tranquillo, tranquillo. Magnana è strana in diretto. Vai. No, abbiamo Magnana. Un abbrazzo grande, grande. Handicap match! Vamos, come? Gemme, sì, gemme, sì. Io non mi ricordo. Oh, sì, è vero, devo usare il roller. Roller, roller, roller. Ah, non ho il lag. Non ho messo il lag. Vale, fai, mi tranqui. Eh, quando te vedi? Grazie per passare. Sì, te lo quería preguntare, perché antes hai visto qualcuno che stava scrivendo in un altro idioma amico e tutto saputo o qualcosa di così. Beh, beh, beh. Claro, claro, claro. Io la tengo. Oh, l'aria che sia successo qualcosa mentre non c'ero. Mi dite? Deve andare, lo ceco. Scusate? S più? Ho l'aria che sia successo qualcosa mentre non c'ero. Mi dite? No, Giacomo, torna prima, cazzo. No, in realtà, no, eh. No, a parte... Sono più rebelle. A parte qualche bestemmiata così con qualche persona. Boh, non lo so. Boh. S più? Educazione, avanti tutto. Handicap match. Che S più? Amico... Niente, niente, ragazzi. Occhitais. Ci rivediamo tra un secondo. Secolo. No, Giacomo. No, 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 no. Fra un secolo no. Dice Giacomo che se ne va. No, Giacomo, Giacomo. Addio. Torna presto. Mandaci una carta. Una carta? Una lettera? No, 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 mi ha evitato di ponere... Comunque una pre... Oh, God. Pregherina? Una preghierina. La family friendly. L'equipo? Sin pepinillo. Vicent. Sì. No, stavo rispendo a Gabriele. Vicent. Vicent. Allora, Vicent. Dejami. Un piangere. Estanno tutti qui. Non cerrano, eh. Quando hai... Quando hai questa mierda? Non puoi ponerle ora? No. Claro che no. Claro che no. E stai bene in tre, eh. Molto bene, Vicent. Non me lo creo. Sì, Luca. 50 like. Il ritorno di Giacomo. 70 like. La morte di Giacomo. 80 like. Un tappeto di Giacomo. New room. Guys, new room. Hello, hello. Abre la logica. La logica del codice. Lo dico? Lo dico? Il codice va a ser... Handicap match. È decir... Come? È fatto senza. E sta in mi mujer che hace la cosa sempre. Più scherzo di Y. Ah, in questa codice. Non ne tengo che pensare. 10.000. Alla faccia del cazzo. In defesa o de cazzo. 1,4,7,7. È stato difficile? Il suo esatto, sì. Il codice e brazi. La, 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 la. Ero in fumarmi la vivana. Portarmi a casa e chiedere se è il pen. Pen, 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 pen. Pen, 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 pen. No, capì, penso che era un fake, sai? Dai, raga, era lui, era, dai. Sì? Fantastico, lo vedi? A ventunesimo livello, fantastico. Ma dai, veramente. E ogni 100 kill avrete il regalo? Se l'uno è un secondo. Sì, sì. Oh, sorry, sorry. Sorry, guys. È vero, solo può essere duca. Uno, dos, tres. Fantastico, afuera. Uno, dos, tres. Marco, afuera. Sì, gus? Dica duca. Pem, pen, 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 pen. Más o menos, similarmente, hemos pensado nosotros también la lógica Vicente. Se acercaba, eres de los que más se acercan a nuestra lógica hasta ahora. Pero no necesariamente dos pájaros. No, no, no. Scus, scu, scu. Además, sería una ave, no pájaro. Pájaros en verdad son... Nosotros le llamamos pájaro como si fuera un genérico, en verdad son un tipo concreto. Porque tu madre è un pájaro. Yo tampoco lo entiendo perché lo decimos. Ho dato un pugno al microfono e tirato un pugno e tasso al microfono. Guarda, ti ho visto già prima con quel nome e sapevo che potevi essere solo tu. Per livello. Perché sai che è la stessa cosa che io. Anche va veloce. Loro sempre sono... Loro, quando dico loro, è Laura e Duca perché erano lo stesso che io all'iniziare. Sono sempre uno davanti di me. Ostra! Io non mangio un po' di... Japan Friend. I will hit your head. Ti mangerò la testa. Ero presente dall'alba di questa live. Mi stiamo facendo lo scherzo. Sì, l'avevo capito. Pem, 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 pem. Pere, pem, pem, pem. Sì, lo scherzo. Oh, Joana. Wow, Joana. Sta jugando Joana. La, 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 la. Passami con la bottiglia di tequila. Sì, la gallina, che è la misca di due razzi di ave. Molto bene. Molto bene. E da l'idea, la logica redonda. Lo pillas? Perché il huevo redondo... Io lo ho ho pillato. No, però sì, la verità che abbiamo pensato similare. Ma cosa è successo con Discord? Niente. Con Tibone? Cosa è successo? Niente, io e Tibone abbiamo sempre discussioni amichevoli. Niente di che. Ci confrontiamo spesso. Però c'è un cambia. Cioè, per me... Lui è sempre il tiboncino. Non è che... Non sempre si è concordi su delle cose che si fanno e delle cose che si dicono. Perciò non... Da parte mia non è successo niente. Da adulto. Poi... E ma Gabriele... La gallina che nasce per creazione spontanea... Sì, per l'impollinazione. Ascolta, l'uovo, ragazzi, è il metodo di trasmissione dell'embrione di quello che sarà un futuro pulcino, barra feto, barra qualsiasi cosa. Ok? Se le madri avessero l'opportunità di fare calcare, semmai il bambino nascerebbe come un uovo. Anche... Perché l'ovulo c'è anche nella donna. Strano ma vero. Però... Adesso arriveranno le domande in cocote. Domande in cocote sono pronto. Vi spiegherò come si ficca. Oggi il doc vi spiegherà una lezione di anatomia in 13 passi. Oh, cocco, dimmi. Cocco ha dovuto dire ovale. Io credo che... Qui c'è qualcuno. Sì, sì, Vaco. Adesso scusati. Tu anche avevi visto logico che la gallina nasceva prima. Sicuramente è l'antecedente delle mù. Ioana... Quando è così, vete, no? Doc, ti piace la lluvia? Chi è? Gustavo. Adoro la lluvia. Tu devi contestare antes che io a questa pregunta. Con la lluvia non ho mai portato paragua o qualcosa di così. Quindi, sì, amo la lluvia. Io ho nascito in un po' dove hai sempre... Secondo me è stato fantastico creare la gallina. Io voto la gallina perché l'inchiostro è bianco. C'è l'inchiostro è bianco? Scusa, non sapevo... Scusa? Chicos? Pone un inchiostro di differenti colore? Ma è quasi da scegliere per colore, non per il tema. Secondo me creare la gallina è stato doc. Oh, un ruttino. Peppinillos, un ruttino peppinillos. Nuove armi, nuova mappa, nuova inchiostro. E sì, quella della gallina bianco? Quella del uovo? È rosso. Che è tipo... Rosso, dell'uovo? Rosso, dell'uovo. Chiaro. È l'unità, non trampicato. È solo l'unità, non trampicato. È l'unità, non trampicato. Mira, è l'ultimo partito e poi passiamo a un'altra Roma. Intanto si spera... Uno, dos, tres. Allora... Lasciamo fuori. Gus? No. Kuma e Leo. L'uovo medita, comunque, quello dell'uovo è di inchiostro giallo. Sì, giallo-rosso. Bravissimo. Ma che bello, eh, l'inchiostro. Quello sì che sarebbe un'esperienza. Sarebbe un'esperienza. Sì. Sarebbe un'esperienza. Come on, come on. Ma passiamo a che farlo invertendo i colori. Fai che maniera, no? In realtà. Ico, i colori. Ico, i colori. Come ti chiamo i bimba? Ico, i colori. Che cosa con Sergio? S'ha ido? S'ha ido. Igual, se hace molto non scrive, eh? Sì, però che sa... Sergio! Io cosa voto? Io voto Berlusconi! Ma che dici? Già, le gusta Pokémon, a me mi encanta. Gustavo, credo che trabaja per la CIA. O per qualche ente assi speciale. Con tutta questa domanda, questa pregunta, sta facendo un perfil di due sociopatici. Sì. No, dai, seriamente. Io voto Pippo Baudo! Io voto Pippo Baudo! E tu chi voti? Allele Mora? Questi scherzi sono italiani, possono capirli. Sì. Cosa voti? Berlusconi! Domani mattina, Andri, sette e un quarto in piazza, ci vediamo. Andiamo con la mia. Ma è già prossimo stravo, te lo spazio. Potevo rimanere offeso. E adesso ci mangiamo il tiramisù fatto in casa. Ostra. Io voto Trump. Alla faccia del cazzo. Ma perché? Perché? Dimmi perché. Perché dovresti usare YouTube Game. O cambiare semplicemente il tuo browser, The Bowser. Mi segui sui cisti. Che dice? A vedere chi ha più uomini nel Splatfest. La gallina. Seguro che sì. Ostra, otra vez. Ostra parte 2. Help! Help! Come sono? Io già vedo la gente bestemmiare lì. Help! 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 È muerto. Oh, io ho un momento di tutto perché sono le nuove chimiche. Le nuove chimiche ti vanno a chiedere tutto, tutta la potenza di tutto, tutto. Sì, sì. Mira, poi hai questo cico che tiene... Boh, buh, 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 buh. Puoi si chiede tipo color, anche? Mamma mia, sì, sì. Reccomi su YouTube Gaming. Dici com'è l'esperienza. Non cambia molto la situazione. You Poop. E poi Phantom. 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 Cocco, cocco, eh. Questo? Questo puto... Aspetta, uso Mozilla. Mozilla. Fummo Godzilla. No, Yahya. Bye, bye. See you. Thank you for playing with us. Coco. Thank you, Yahya. Bye, cool angel. Bye, cool. Bye, bye. 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 Parolaccia è tipo... la tradizione di quemarlo sinceramente, mi parezza stupido. A me me gusta, a ti ti gusta, pipiripi, a me me gusta, ye teri teri, bella la canzone. Mi ha evitato un safari. Fatta solo tu, eh. Vai, faccio. A me me gusta, no 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 no. Si es con el pincel no, eh. Si es con el pincel no. Si es con el pincel no. Que lo fuere el que la besou, no? Forse, Leora, ese bonito que es. No le respondo. Quiero un rapito fraudezo. A mi me gusta, no 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 no. Vamos, Leo. Perpapira. Lascialo aperto a 10 minuti. non mi ricordo il codice, scusate ragazzi, abbiamo iniziato il match in un match adesso cambiamo Sonic, aspettate un match e abbiamo iniziato, capisci? sì, no, magari, è possibile, non credo wow ok, thank you hola Gabri che tal? che tal stas? che tal hashtag? oh, 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 ora vienem, ora vienem, da donde vienem, ora vienem, aiuto, aiuto, muori Jedi, oh, ora vienem, aiuto, morto questo, ho il muy contento, hola Miguel, buen, bien, bien, bienvenido hola a tutti a tutti tutti, tutti, tutti abbiamo di dare a tutti oh, aiuto ho visto due nuovi aiuto, aiuto, aiuto no, non mi lo credo non mi lo credo eh, Miguel, no eh, perché sono giorni di Splatfest questo, stiamo facendo la Splatfest Spiriduale quindi al torneo al torneo io sono già scritto ma il mio youtube gaming dice scriviti scriviti, scriviti vai, vai, subito così ti vogliamo non, 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 aiuto madre che asusto ancora non abbiamo elegito a Gabriele ma la tendenza è questa il che? huevo, huevo io ho molto molto huevo nella nevera mi piace pittare con questa cosa tanto io non puoi venire hanno perduto un partito chico, bufu bufu, equipo bufu fanta lo sappiamo fanta man fanta man invincibile sei tu avemo ganato in un handicap match mira ma con ma con la tua mano bufu huevo scorre poio e poio creo io la partita sei sicuro? vieni, vieni qua vieni qua bufu vieni nella nostra partita che facciamo la reaction a Leo dai, dai di Victorino mi falta no dove è Victorino? ha detto dicio oddio chi è chi è questo dico di qui? oddio 4 e 4 e 4 e 8 bofu gustavo mi sta chiamando gustavo di okano per favore che cazzo chiami? non lo so ok devo andare sì Leonardo oh bleh 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 dopo quanto sei british ma sei ta 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 perché mi elimina è hombre, sei manas? sei se manas? sei british la mia donna è british vamos listos 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 la 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 perché? tu mi dirás sto preparato no non ti ho detto allora tutto listo tutto preparato vamos a vedere vamos a vedere vamos a vedere no a Leo fb Leo aquí listo a ver come juega il nostro amico Leo parece un jugatore muy muy degno proprio de REACTION ah sì perché era lo che si esperava in questo momento e logicamente questa è una reacción se non dico reacción non parece una reacción io pensavo che potrebbe essere parecchè una cosa normale entiende parecchè un video io c'ho un amico no no questa è una cosa dice reacción reacción e il nostro Leo va pintando hola Leo ha assustato la diva mi ha assustato a me también ha sido diva no no ha sido la sita diva vale vale vamos a ver lo que pasa con Leo è un Leo timore che non tiene miedo si ha tirato in medio dello cooling si 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 prasta come si dice oh oh perfecto che punteria che punteria mi mujer parece una momia dice solo se 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 si 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 tiene ben claro che non quere che se muevan lei sembra che dice scusami stai qui per favore perché mi stai facendo il video quindi venite meglio mi piace mira mira ha limpiato una granada ha tirato nell'acqua questa è holà e le dà l'hai visto che abbiamo un calamaro qui che sia squid party solo come un loco io l'ho visto è in serio stava all'interno in alto sì sì da come siamo via penso che era diva non so perché ti dico questa credo che sì io credo che se ora leo mira arriva a uno sta qui bailando a ver no no ha una maestria questo mi piace un montón come juega sì sì ti dico io sì sì mi deixa solo dire sì sì molto 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 limpio bravo 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 istinto grande leo però mutuamente se esplattaron ha hecho di verità un buon buon partito sì 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 no no de verità io sto impresionato vale jugava tambien con Mastodonti 9 grande grande 1892 grande leo 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 juega estilo calev dice victorino o calev juega estilo leo questo non si sabe noi stiamo qui per dire chi a chi ma fanta ancora non ti ha dato la switch ma chi fanta no ah la switch la sorella spera che lo pongo io eh chicos un secondo no adesso manca victorino ma victorino non c'è ah è lì victorino però non posso gridare di nuovo reaction a media noce no sì lore colmi chicos lore un secondo eh entonces tenemos che poner fuera lo che è ora mismo ha tenuto la reaction eh chicos por favor esperais no no che non tenai che dar subito subito un secondo che assie invio en youtube il video di Leo e vamos jessy jessy sta nella modalità tiramisu mod wow è un conejito è un conejito manca così è perché mai la cam non c'è la persona non ti bevono non vale come non vale vamo a sapere vamo a sapere vamo a sapere e quindi 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 quando mondo quando non come saver victor il ligo di bueno lo chiamano il nuovo mappa il nuovo di lo tu che non è la mappa di nuovo non lo sai vale vale perdonare è nuovo nata non lo sai era nuovo nuovo è tutto nuovo è la prima va jd ha sido splattato in maniera magistrale no sabía che si se poteva no miro miro lo el tambien è muy veloz come un personaggio si wow e tiene una buena 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 lectura de lo che è il movimento del tambien de los enemigos perché al final ha hecho un par de movimenti che hanno sido muy wow come evitar antes o casi casi si si hola è la diva se cae setto va bellissimo victorin ma si si hace sin pensar io odio però questo rocket perché al final hay veces che non matan nadie no 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 te has engordato un pochito victorin tiene che comer un poquito meno magnana per la nocce e faremo la nuova reaccia! no? vale quindi si 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 guarda come lo segue no JD vuole essere lui il protagonista ma Victor non si muerde come si dice? non lo so se non lo sape cosa facciamo qui? se non lo sapeva non lo sapeva continua va bene? andato? buona si che vedi come ti insegnavo lui è un mid player lui sta nel centro è un giocatore che nel centro non va a buscare lui ti insegura lo che è la mitad perché se lui sta lì pinta la mitad wow si tecnica questa è la più tecnica bravo bravo Victorino è molto limpia la travezza l'ho fatto molto bene e buon io è anche il primo in suo equipo wow con lei bella nuova nuova ti stanno chiedendo qua chi è? tutta la gente ti sta chiedendo di fare una nuova cosa vuol dire che tutta la gente mi sta chiedendo nuova? di reiniziare la room ah ok non video no no Victor madre mia Vicent è più rapido però ora non vediamo lo sai ok nessun glitch nuova e andiamo 6 4 5 4 allora che è? devo devo andere vedremo ancora voilà perché allora tu video è un video allora Vitto ti stai ponendo tu video leo il tuo video è che sta cargato ho fatto un po' di cacca un secondo chicos perdonai YouTube video mi schermo Luska Fanta tu la tieni nella reaction tu non ce l'hai la reaction vero Fanta? no mi sa di no no Fanta? questo questo ti dammi su non puoi aspettare una reaction ancora? Vittorina no 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 hai la sentita anche non mi pare mi pare noi siamo molte volte Fanta Reaction dai dai Fanta ragazzi ora Fanta vanno per ordine mi immagin car Reactions Laura quindi Victorina ha giocato ora quindi sta fuori e si mira su video eh? che? no no Gus por favor non puoi da ora in serio mi potrebbe essere una chiamata veloz veloz c'è cosa abbiamo una chiamata veloz veloz a Gustavo e sarà il che una sera un secondo eh che tengo che impostare il todo perché hai una nuova Reaction ya ya la siamo ah si? dai perché questa noce è sabato per la noce pare se che todo chieren che mi l'hamos comunque quindi io che ora sono un pochino cansato dal dia del vomito e del todo mi lo come cagana ah in italiano dobbiamo farla tra le altre cose eh certo perché andiamo a vedere Fanta il nostro fratellino Fanta wow anche lui anche lui con il dipingo tutto ma se ti becco ti spacco si chiama così quest'arma in italiano e avanza attenzione al nostro nemico cecchino e questo cecchino mi sa che è diva per come si muoveva ce l'ha dietro anche vale vale up via e logicamente fare una reaction di una persona che ha il pennello è sempre una cosa scomoda perché ci sono momenti dove per via del movimento delle persone non riesce a fare tanti sono momenti dove puoi dare il massimo perché sono un po' più separati ma mi piace quando sono separati quando ne becchiano una volta non il gruppetto perché il gruppetto all'inizio di Spartan 2 lo ammazzavi tranquillamente adesso è già un po' più difficile e quindi va tanta che non si tira indietro eccolo vai vai è tuo mangiate il cecchino per favore no no chiedi va tanti cecchini è maco attenzione non è un cecchino qualunque è maco è buo è vero cocco si continuo si 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 ci sono persone che oh ce l'è dietro boom che suerte che culo ragazzo mio eccolo vai 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 dai due vai due c'è ancora uno no ma la suerte peccato è sempre maco con una bomba tornando indietro perché maco questa tecnica mi sembra che l'abbia copiata tra virgolette a elmad quella maledetta bomba che elmad manda prima di tornare indietro quando il cecchino è qualcosa di buff fastidiosissima e quindi eh ma l'altro equipo sono belli agguerriti eh e poi maco col cecchino boh abbiamo già detto che è uno di quelli che ti rompe troppo le palle perché non torni a giocare a farm simulator ci stiamo chiedendo tutti da una settimana a questa parte ma lui non ha paura no 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 così si gioca così si fa giusto e nel frattempo ha splattato anche le ola veloce no grandioso Marco è sempre lui come fa lui devi spaventarli devi andare giusto ma lui dovrebbe avere adesso dietro qualcuno che lo incoraggia una persona con un'arma che spara lungo ok uno con una n con una n dietro di lui farebbe delle cose bellissime perché lui spaventa quello che non e il zap ammazza un cecchino dovrebbe stare dietro una persona così comunque per mio parere per il ruolo che ha avuto mi è piaciuto molto la partita inizialmente un po' un po' di più però logicamente ha avuto contro persone molto 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 dure quindi ripeto per il ruolo che avevi disturbatore molto bene bello finalmente abbiamo visto anche Fanta come gioca è vero noi che è Marco hai creduto in me e mi hai spaccato il culo come si chiama Fanta che pelito ha davanti a Fanta di X sì un secondo chicos Fanta perfetto Laura se tu muida sei dann nutzi das am besten aus auch wenn es schade ist dass du nicht hier bist aber nutzi es auf jeden fall aus um zu schlafen dann wirst du ausgeglichener jetzt ci mettiamo c'è qualcuno da guardare chiedi se c'è qualcuno da guardare alguien no tiene reaction a un jd 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 please hello pero creo que miguel la tiene michuel la tiene si la primera si la primera onda si ok jd 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 todos o prácticamente todos tienen solo una miguel si solo tibon no tiene dos creo no si hay muchos máximo pueden tener dos y si tienen dos es porque han sido antes amigos y luego miembros de igod o porque han llegado a los 100 visualizadores si vamos hola 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 jeje que tal hola vamos do has visto si intenta posto más fondos de perfil lo has mirado antes no lo tenemos todos si lo tenemos todos ya lo 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 si parte e quindi 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 e quando quando andiamo a vedere che vuole vedere che vuole vedere dai non vuole nessuno si jd dai e allora guardiamo jd jd è un giocatore anonimo che non parla tanto scrive poco ma presente via si incontra subito un rullo che potrebbe essere un mamma mia un maco sniper analizziamo un secondo l'arma allora abbiamo visto che ha una nube e una fiera tossica come arma non so che arma abbia non l'ho vista bene ok una dublo vai madre mia questo cecchino chi è già da prima è sempre maco e quindi maco una volta che ti hanno ammazzato io godo io godo solo quando splattano maco festa player azzardato azzardato un player azzardato jd solo che non ha tenuto conto una cosa molto fondamentale che non vanno mai date le spalle alla base nemica hai capito per scappare lui doveva passare da sopra per fare una cosa molto più furba perché non dava direttamente la spalla secondo me è un nemico per come la vedevo io in questione di sicurezza e comunque come giocatore ultra veloce si muove molto bene si è un movimento non del tutto fluido ma fluidissimo a tratti infatti a mia stava quasi me in marea perché va tanto rapido in quanto circolare il movimento circolare rapido bene bene è ma è lui è lui che penalizza sempre nelle reactions e boh a metà cattivo chi è DJTT abbiamo un nome che non conosco ma JD va JD boom grande vendetta personale così si fa via no questo è mago sempre è la persona se guardi i nostri video è la persona che si vede di più in assoluto alla finale sai sia nella sua che nelle quelle delle altre e va ha concentrato questo latte è totalmente arancione peccato che nessuno si è reso conto prima di questo scempio nube hai notato una cosa nell'aggiornamento quando fai la nube all'ultimo adesso non ti va più avanti come tante armi ah no non continuo più a calcolare questo non è buono com'è andata quindi per lui per il suo tipo JD 2 e 2 con un disco nei tank non è andato non è andata benissimo no però come lui gioca lui ha giocato bene molto bene per i miei gusti si muove bene molto veloce l'arma non è la sua però un giocatore già visto 78 bene questa la gioco anch'io sai tanto tutti hanno io non so chi è quota tete gioca un poco JTT 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 io Anna non serò no Ken no oh faccio una partita anch'io ragazzi perché ma si ma veramente mangiamo questo voglio fare una partita anch'io vuoi giocare si oh non ho fatto una partita inizia a mangiare J no scherzo dai mamma mia JD perfetto con la mischia faccio sempre fatica mi trovo meglio nelle prof dice JD oh la mischia è boh la mischia è molluschia la mischia molluschia molluschia parruuschia quindi andiamo a vedere cosa fai adesso cosa fai adesso voglio mandare prima di tutto ai ragazzi i video JD e quindi ciao bon eschere che bello figo così ti voglio ancora in piedi eschere vai bello figo come stai ui sta Ioni Ioni buon buon si dice un secondo dovevi chiamare la live nintendo switch anniversario ma tu lo sai che noi siamo ribelli e lì dove altri fanno speculazioni noi facciamo semplici parole come on air on air te lo dico in inglese perché tu essendo bello figo eeeh porchè ora te la quento ora te la vai contando che che eeeh la mia live è molto british perciò ho messo semplicemente 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 on air splatoon 2 anche perché se il compleanno della switch dovevano regalarci qualcosa così la vedo io on air on air air on air scusami saccioli cazzi io l'inglese lo mastico solo col chewing gum e quindi abiti pazienza girati girati jessica dove cazzo spari cosa dici mi hai messo nervoso ma non è vero ti stavano sparando dove sono dove sono madonna che capra è un cecchino capra 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 ma cosa faccio questo pennello si sono non so giocare neanche con un'altra arma tu lo tieni gioco a te gioco a te ci cos'è questo sono i video giuli gazzi ci cos'è questo sono i video che abbiamo fatto ora di Fanta di chi è leo leo Fanta e Vittorie i Vittorie i JD ora lo va cargando Gabri mai visto cosa volevi dire li volevo rispondere con per chi ci ha preso cioè chi cazzo pensi che siamo che facciamo hide and seek mi piace più la coca cola però e guarda bello figo io ti dico che è molto 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 meglio la Pepsi e qui nascerà una battaglia epica qui ci sarà un dissing o qualcosa del genere io lo so che questo ti fa incazzare nero questo fattore pensi sei bello figo veramente vomito Jessica è tedesca sa tutte le tue canzoni bello figo tutte ogni tanto si sveglia una mattina mi fa la pasta col tonno tonno io dico ma Gemma sei tedesca tedesca fondatori del movimento più sul realismo come si chiamava quel movimento che hanno fatto i tedeschi non me lo ricordo comunque c'era un movimento culturale brava che hai fatto oh no è lui è lui è bello figo bello figo bufu con il movimento a muovere pass vale Ioni ora ora pass molto bene una gallina vale vale quanta logica tiene più logica questo che è un montón di spiegazioni che ti danno il professore oggi la contrasegna qual è la contrasegna è ora la vuoi cambiando punto com la nuova contrasegna sarà questo questa è la nuova contrasegna chicos nuova contrasegna dios non esiste claro che si perdona chi ha inventato l'uevo accettamos quindi chicos che facciamo accettamos che 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 ora è stato in un altro clan dello Wut l'accettiamo Wut che o accettiamo Igo di che che ok oh mira Igo di che 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 abbiamo qui Jess sta molto infadata contigo e io non ti ho borrato no io solo por questo lo crema che che e se mi inviava la notificazione come si dice se mi arrivava la notificazione prima della live no avrei aspettato la live per accettarla che se gli chiamava la peticione antes mi spero poi stare live per accettarti ah Igo di che che como como me me faltava un montón mia amica che che hola caos briana mi faltava un montón mia amica che che moglie a me piace la coca di più però eschiere 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 che briana caos briana a chi regna il caos io adesso devo assaggiare questa teoria che sono esplorio buon appetito tu io io so lo che lo come luego tu eri tu come come eh entonces tengo subito che aggregar los amigos che no tengo ah ma briana io la conosciamo tia già io la conosciamo briana non sai come ma la conosciamo mira che stronza se l'hai chitato te odio loca 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 este tiramisù sta muy chicos solo creo che è molto molto di bon di bon oie oia che anteriore abbia visto questo diretto si 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 hablamo come sale hablamo un pochito de todo un pochito di todo quindi io mi voglio comere il tiramisù tambien chicos eeeh el chico os regalo la foto del tiramisù mentre lo sta comendo jessica e in discord voglio ponere la foto del jazz che come è il tiramisù è il primero plato di tiramisù mi sa che ho preso anche la cosa una merda fare le foto si tiene che per te resto il cadavestack e tu puoi essere la foto col microfono in mezzo il tiramisù troppo british voilà che bonus allora io chiedo per una cosa io chiedo per un secondo vantastic mas che vantastic lui è lag lag tastic averlo che passa visto lag tasti che visto lag tasti duca 30 secondo vantastic il pompiero no il pompiere paura non avrà ne 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 le limone allora com'è esto tiramisù a me piace tanto allora se teniamo che con partire in esta maniera il codice, non lo so, è questa rima il tiramisù è qualcosa teniamo che di essere grazie per aver inventato il tiramisù buono allora ho messo il bazookarp bravo Fanta chi è? Miguel? ma Miguel è stato boom ma dove è? Calamaco? dove è Marco? salva la vita agli altri ma questo conta poco il pompiere paura non avrà bella eh? no no che nuova mappa che nuova mappa Vicent oh grazie grazie GD anche noi ti mandiamo un saluto e ci vediamo presto presto buonanotte buonanotte oh Duca stasera lasci tutti in handicap mode ah vale vale ok ok Calamaco è già tardi è quasi l'una e ancora poteva giocare e quindi io voglio capire questo qui è è Ioana no con il rullo come vuoi essere Ioana? e dove sta Ioana che lo sta fuori? ah no non è Ioana no è buono è tripon credo che sì con un rullo guarda meglio un dolce meglio di questo non potevi mangiarlo stasera è vero? buono io con mio zio ci dividevamo sempre le telle ci mettevamo lì ce le mangiavamo insieme così ma per mio uno da una parte e uno dall'altra ti voglio bene Calamaco fiero di averti avuto tra i primi anche a te come anche a quell'altro come si chiama quello lì in londinese? quello è simpatico eh quel ragazzo londinese sì dai c'è qualcosa Foxy grande cocco è arrivato Foxy cocco saluta Foxy dai ciao Foxy ciao Foxy che tal andrà tutto bene? no cocco basta basta non lo scherzo jdd che bello macchino macchino viva viva macchino anch'io anch'io credimi ti ho conosciuto che giocavi a Pharma Simulator e adesso guarda sei quasi diventato un calamachino adulto salutami Volvì io te saluto e ora salutami tu faccia un diretto e salutami boom chico dopo sei questa bomba ipocalorica come una bomba che è oh Fanta un abbraccio buonanotte bello riposa anche tu sì ciao Fanta notte notte è vero già non chiamiamo mai più a calma Andrea 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 è vero chi è che l'ha detto Andrea quasi non mi ricordavo sai sì sì Andrea ciao buonanotte Andrea cose che mi fanno ridere vedi io rido per poco e buonanotte Fanta 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 tutto il mondo che è l'estadio a colote come si chiama dice no c'è Michele 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 oye doc e mi compro e puoi parlare con mi voz e nel diretto sì claro che sì anzi Gustavo saluta Gus Gus saluta dai saluta a todos l'ho scioccato vai Gus Gus ha senso lo ruido ola 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 gus gus ola ola a mi a mi mi chiamano il solequilibrio algunas veces a mia escuela il solequilibrio è l'ho as si non va a dire che non ti abbiamo fatto parlare a noi noi facciamo libertà di parole a le persone sì Victorino Gus e Victorino sta scrivendo Gus sì lo noté chiun è questo? chiun è questo? ma Coco Coco ha bisogno di reazione 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 è sera è sera asilo bene Leo mi ha fatto reazione no mi ha fatto reazione solo tu solo? no no se hai fatto reazione solo ma che reazione vale vale che io chiedi a matar a Leo e poi mi ha fatto una reazione molto forte che la persona pensa che siamo loci qui in casa minchia e nel nostro quarto pensano che hello 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 friend hello friend hai también Miguel che te saluda nel chat e dice Gus entonces hai dos dei fan se tiene seguros hello Japan friend hello hello how are you? casi me mataron me mataron tenemos un altro amigo oh no me lo creo te mataron me mataron siempre siempre estamos jugando en tres porque è nostro compañero Duca si 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 gio el internet es claro porque el su modem es una rueda con un hamster en el interior que dando vuelta a la rueda le da la conexión a internet a él no me lo creo oh duca la prossima mi sa che te la fai fuori stai lasciando sempre 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 a buco di sera di sera ma no di sera va malissimo la sua collezione non riesce a finire una partita di sera veramente horrorosa lactastic si boah se me mataron ahora matar se me mataron no Foxy Foxy no hablamos chino es que no vamos a hablar chino tío amigo tu no hablas chino no porque ves que usamos el traductor no somos más que todo que pasa que pasa que que entonces JD vale si parte esto vamos a hacer uno dos tres boom un 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 torre móvil vamos bus ok es la primera vez que hablo contigo con vos en vez de chat hai visto me dolen mucho los dedos e lo está haciendo también en directo más que esto así todo lo que dice aquí aquí estará grabando de los siglos en serio te juro que me dijiste que tú estabas aprendendo el chino no 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 si te lo dijiste que te estaba tomando el pelo Foxy no no ah pero sí creo que sí forse tomándole un poquito el pelo con el tiempo prendrás cuando dice las cosas en serio cuando es de broma claro 80% soy tonto vale Jaime los chicos están yendo todos poquito poquito pero se van vale nosotros también ahora vamos a hacer un directo de Disc Jam vale sí ya me ha matado me ha matado un tal FB Miguel FB de ti hablan Miguel 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 sí es lo splatador Estados Unidos a mí sí estoy vivo no no me ha matado al final Gus es uno de lo que no se pone vergüenza de hablar es una cosa buena entonces es como nosotros no me da vergüenza nada bravo me da vergüenza cuando hablo en público tanto pasa nada es solo hablar es solo hablar sí hablar hablar es hablar hablar y gritar pensabas hablar en cino amigo me imagino que quieras en cino ¿qué te has hecho? gracias me quieras en cino no en japonés oh wow bu shingeyu yoni yoni bu shigede yoni arigato bushido de yoni oppure otra palabra otra palabra que sé en japonés es hijo de kumo esta esta es la aprendida no se habla en cino pero algunas veces veo animes a gusto a mí me gustaban más el manga el libro el dibujo animado me gustaba más leerlo si los manga son más baratos en persona es verdad a mí me gustaban era por la sensación de leer este pequeño libro al revés cuando todos te miraban en el 94 1994 prefiero prefiero ver los mangas en google y traducirlos al español ah con las con las estas con las señas esas el idioma chino no entiendo no entiendo nada cuando alguien me dice arigato y yo digo hola hola es chino adiós 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 espera un segundo un segundo te saludamos los chicos chao quien se va dios mi oídos mi oídos mi oídos esto grito esto grito ha sido regalado creo da nuestro amigo guz 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 faremo l'ultima aquí ha pasado adiós adiós foxy foxy nos vemos nos vemos creo mañana porque nosotros terminamos el directo en breve entonces nosotros también pasará bien y gracias 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 por pasar el rato con nosotros chau chau foxy un abrazo y un beso si buenas noches bueno no buena tarde a ti buena tarde por el si claro entonces cuánto 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 ha pasado ayer ¿veje? no lo so no lo so no lo so gracias por dejarme andar en directo eh guz guz es terminado es terminado la batería del 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 móvil si porque yo uso el móvil por mí en la chat normalmente entonces mostrá dai dai non fare con la faccia ah ma che es es vero no me me lo creo no me lo creo lo che ha passato è fatale todo lo che ha passato è fatale si habla paulo village jess casi casi sta dormiendo eh che jess casi casi sta muriendo de de sueño a casa stava mi piensa ser ruido tipo perro quando le da calcio al perro jess se te dormite si te hago una foto e la posto su discord con tu mobile perché il mio sta pagato sulla sigla e ti ha srotto il cuello tu madre che mi conosce dice oia l'ha matata l'ha rotto il cuello io stavo quando ho splatoon ma la posto nonca può dormirse il poiontino posso no il poion sta nel pollaio ti ha proprio così veda meglio come gioco con gli occhi chiusi bobo 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 no ostras joshua joshua did you listen me joshua sorry joshua we stopped to play we closed the stream because really really rally 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 so i don't understand you you understand me hello is get it mi chia come ti va a dar un tumulto che dillo doro doro por che dices ostras gustavo non 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 che pensare nesto ma perché è che pensa su madre che l'ho matato io è vero è comunque questa cosa perché lo volete anch'io al midollo la cazzata del genere le persone che sono che si addormentano sul collo sul collo sul collo nel senso come stai facendo tu sul tavolo sul collo per quello mi incazzo sempre che si dice che non fa bene dormire sul collo quando si gira diciamo quando lasci prendere la testa allora tu cabeza e la parte mass pesata pesata del tuo corpo questa è parte della connessa concetto la parte che pesa massi por super super fin c'è tutto quindi se joshua he just told you in english that we are about to close the stream so there won't be no password yeah because we have one new game to to test so joshua if you wanna watch our next stream was by disc jam disc jam no vi vi sen vi sen via stata i astavi se le spese pare sede massiato a 20 20 20 joshua joshua gio孝 tots¥ joshua giuesto a 20 20 commentate non che come calma basta this pisto so stop stop i seri coming 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 no io 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 i 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 ora ora nostro Vamo Por resto Lo so troviamo Por resto Vedi E' il terzero Non so se Sì sì Ioni Por resto Oppure resto Quale vogliamo giocare Cosa vogliamo giocare Bellissimo Questo mi gusta un montón Verlo è così Mi gusta un montón A me tambien Vale chicos Nosotros paramo la live De Splatoon Así mañana Podemos disfrutar Más De la tarde Seguro, seguro, seguro Entonces mañana Mañana harà un directo Oye La llamata Te comunicaste con el telefono Claro Con el Discord Gus Te llamé con el Discord Mañana Vamos a fare un directo Chicos Come nunca L'havamo Haccio Chicos Os dico solo Que sarà un directo En YouTube En YouTube La persona La persona La persona son muy Vale Nos vemos en un rato Chicos En un rato Vuelve en un rato Hago partire El disc jam Y ya está En novemo Saludeme Foxy Quiero decir Saludeme Foxy Saludeme Foxy